Ciao mio caro amico aspirante, trader, professionista e profittevole, io sono Almaiti, oggi è martedì 7 maggio 2019 permettimi di mostrarti quel che ho fatto questo è il market profile di ieri pitusa come vedi ieri abbiamo avuto una giornata un forte rialzo, abbiamo avuto due distribuzioni c'è una linea magenta qui accanto a quella rossa che evidenzia il nascere di un'altra distribuzione e poi c'è questa linea magenta qua, proprio in prossimità del massimo overnight due importanti livelli, ovviamente poi c'è la value area high, la linea rossa e la value area low, questa linea blu bene, durante la Asia session, ok, il mercato è rimasto dentro il range pitusa e durante la London session lo stesso come vedi il POC, il POC qua, della sessione overnight, è vicinissimo al POC della sessione pitusa di ieri e anzi è un punto sotto quindi in questa situazione, va bene, c'era un'importante indicazione dal market profile il trade che ho fatto io oggi è stato quello di, come vedi, aspettare la prima occasione utile per entrare molto pesantemente con 10 contratti short perché 10? perché, come ti dico sempre nei miei video quando apriamo dentro il range pitusa del giorno precedente io raddoppio solitamente la mia size, va bene? ok, in questo caso io ho messo i miei 10 ordini pendenti su questo livello qua che probabilmente era il livello del midpoint pitusa quando ho visto che c'è stato un pullback proprio qua vedi, sul graffio pitusa un minuto dal punto di mezzo e sapevo che questo debole pullback sarebbe stato rivisitato perché questo è un segno che non ci sono strong buyers, forti buyers in questa situazione bene, il mercato cosa fa? crea un sequential decline qui, come vedi nel footprint da 30 minuti io metto i miei 10 ordini pendenti short il mercato si avvicina appena alle mie ordini questa è la prima vera rottura pesante come vedi il COT sta abbassando segno che ci sono seller, sono entrate al mercato e sono spingendo a volume a ribasso il mercato mi esegue, il mio stop loss è soprattutto sopra il pitusa session early morning high cioè il massimo della mattina appena apertura e qui metto 7 contratti target a 3 tick prima della linea blu chiaro che è il minimo overnight e gli ultimi 3 contratti sono 2 tick sopra la linea blu questa qua che è la valo arealo di ieri bene, il mercato mi vedi inizia ad accelerare inizia ad accelerare a ribasso, fa un pullback fa un rally ma è debole poi il mercato continua a accelerare mi va a prendere i miei 7 contratti a questo punto sposto il mio stop loss da qua a break even più 1 più 2 proprio un tick sopra il COT qua dove è rimasto qua come vedi poi il mercato cosa fa? continua ad andare a ribasso io metto un altro target qua sulla prima linea strategiale punteggiana nera che è a un precedente livello settimanale il mercato mi prende anche questo così mi garantiscono ulteriori profitti porto il mio trading stop profit come vedi a ribasso lo posiziono sotto questo grosso questi due grossi ordini di vendita e poi il mercato come si fa? questo è il market profile come vedi il mercato ha fatto un'accelerazione a rialzo per stoppare tutti i longhisti intrappolati e poi andato presentemente evidentemente a ribasso per andare almeno fino alla linea blu che è la valo arealo di ieri e poi magari anche rompere sotto il minimo pizzo di ieri bene il mercato continua come vedi mi va poi a prendere gli ultimi due contratti che avevo a target e con questo primo trade mi garantisco 3612 dollari non male caro amico per questo primo trade profittevole il secondo trade profittevole scatta praticamente proprio all'apertura della seconda andrea 30 minuti di oggi della sessione pitusa dopo che c'è stato questo rally fino al punto di mezzo della sessione pitusa come vedi il mio stop loss è sopra questo swing high e sopra il wewap della sessione pitusa il mio target è 2-3 tick prima della linea color blu che è ancora una volta ti ripeto la valo arealo di ieri bene il mercato come vedi da quando apre prende e inizia a accelerare a ribasso inizia a accelerare a ribasso e mi va direttamente a target e con il secondo trade profittevole con 5 contratti short ho totalizzato in totale oggi 4925 dollari e caro amico ti garantisco che questa settimana sta andando alla grande caro amico se anche tu vuoi dare in questo modo fare anche meglio di me nel mercato regolamentato dei fiusi e delle azioni e delle opzioni allora scrivi la tua storia adesso e manda il link sotto a questo video io ti auguro grazie grossi e succosi profitti ad ogni tua prossima sessione di trading ciao da almighty e ci vediamo domani al prossimo trade profittevole ciao